Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi mettiamo a confronto la rumorosità dei due piccoli droni di casa DJI, il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2, perché come tanti di voi ormai già sapranno, questi due droni hanno avuto come cambiamento, a parte la videocamera e via dicendo, anche i motori e le eliche, quindi questi due cambiamenti, cioè motori e eliche, sicuramente avranno influito in modo positivo o negativo o magari anche indifferente alla rumorosità del piccolo drone di casa DJI, quindi questo è un videoconfronto fra i due droni a vedere se la versione precedente era più o meno rumorosa di quella nuova o viceversa, o alla fine magari scopriremo che fanno lo stesso identico rumore. Quindi ragazzi, adesso metteremo in volo il Mavic Mini 1, poi il Mavic Mini 2 e misureremo il tutto con questo, cioè il microfono della Rode collegato allo smartphone con l'applicazione per misurazione del suono, quindi ho creato tutto questo accrocchio, guardate che roba, lasciatemi un pollice su solo per la creazione di tutto questo, con la stampa 3D ho creato un po' tutti i componenti o meglio la maggior parte dei componenti per assemblare appunto questa strumentazione di misurazione del rumore. Quindi direi di non perdere il suo tempo ed eccogliamo con i due piccoli droni di casa DJI. Partiamo con il test. Perfetto ragazzi, allora il piccolo Mavic Mini è in posizione, quindi adesso non ci resta che testare il suono, quindi metterò il microfono vicino al drone e faremo questa prova. Ovviamente questo test è per il drone fermo in hovering, poi facendolo andare avanti, indietro o meno, potrebbe il suono cambiare da un drone all'altro, però il test che posso fare è che non posso correre dietro con il microfono a misurare il suono mentre il drone sta andando ovviamente, quindi facciamo questa prova e vediamo la comparazione di rumore. Quindi facciamo partire l'applicazione e misuriamo. Perfetto, la misurazione del Mavic Mini è questa, quindi abbiamo un minimo di 57 dB, una media di 59 e un massimo di 61. Quindi adesso facciamo atterrare il piccolo Mini 1 e facciamo decollare il Mini 2. Perfetto, il Mini 2 è pronto, quindi adesso proviamo a misurare quanto rumore fa questo Mini 2, se è cambiato o meno rispetto al Mini 1. Quindi facciamo partire la misurazione. Quindi ragazzi, sono praticamente identici, c'è una diversità minima, uno è arrivato a 61, uno a 62 di massima, ma praticamente sono identici. Quindi sono stati cambiati i motori, sono stati cambiate le eliche, dal punto di vista puro della rumorosità a livello di dB sono praticamente identici. Adesso faccio riatterrare il Mini 2 e tiriamo le conclusioni. Ok ragazzi, allora, cosa dire? Mini 1 e Mini 2, dal punto di vista del rumore, sono praticamente identici. Secondo me è proprio cambiata la tonalità del rumore, il tipo di rumore è diverso, ma dal punto di vista puramente del volume, quindi del fastidio che possono dare, sono praticamente simili. Non c'è stato cambiamento, né miglioramento, né peggioramento. I due droni sono praticamente identici dal punto di vista della quantità del rumore che riescono ad emettere. Come vi ho detto è cambiato, perché se sentite prima uno, poi prima l'altro, capite che sono due suoni diversi, ovviamente i motori diversi e le eliche diverse creano un suono completamente diverso uno dall'altro, ma dal punto di vista del fastidio che possono dare, del rumore che vanno a creare, sono identici. Quindi ragazzi, era un test che ci teniamo a fare, perché comunque questi droni di piccole dimensioni, una cosa importante che devono avere comunque è la rumorosità, che deve essere bassa, perché comunque sono droni che possono volare in location abbastanza particolare rispetto ad altri droni e se danno fastidio per il rumore comunque è sempre un fastidio che creano ad altre persone. Quindi ragazzi, le conclusioni sono che in questo test comparativo i due piccoli droni di case DJI escono alla pari, quindi non ha vinto né uno, né l'altro è stato un pareggio 0-0. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale, questo test in cui ho creato questo super accrocchio per misurare il suono dei due droni vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante curiosità e tante cose che su YouTube magari non arrivano, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non lo avete ancora fatto e se vi va, soprattutto per sostenere il canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione o un test come questo o un tutorial. Ciao! Ciao!